e quella vecchia del millen sono entrambe molto scuro ciao vol vol come va vol lo sto facendo soffrire gianluca provo l'occhio volo vuoi vedere quanti tentativi vuoi vedere quanti tentativi c'ho su mega ma non mi interessa non è più di due fare incendio fare thinking space e prendere per il culo lecce di livelli di merda picchiere gormac il grumpam il grumpam hai mai fatto la prova al guidare challenge la cazzo è sta roba prima lo so è la prova al guidare challenge lo stai facendo no oh oh il bianna il bianna gg no aiuto davvero la basso ben delia è